Cari amici benvenuti al nostro consueto editoriale col quale vogliamo fare il punto della situazione dal punto di vista dei messaggi della Madonna, perché viviamo diciamo in una situazione di informazione a livello mondiale in cui diciamo la menzogna regna, d'altra parte se Satana regna come ha detto la Madonna anche la menzogna regna e quindi per grazia abbiamo la regina della pace che non è già nei particolari, però la situazione non solo spirituale ma anche reale, cioè anche esistenziale che riguarda proprio la vita qui sulla terra la Madonna ce la rivela e sappiamo che i grandi pericoli che la Madonna ci segnala sono più che mai reali, cioè non sono immaginari e fanno parte proprio anche della nostra esperienza di vita. Quando la Madonna dice che nel mondo c'è la guerra, nel mondo c'è l'odio, che Satana vuole disuggere le nostre vite e la terra sulla quale viviamo, noi stessi percepiamo la verità di queste parole e tanto più la percepiamo quando la Madonna ci dice che Satana ammietta le anime e quindi è alla luce dei messaggi della Madonna che riusciamo a capire i momenti in cui viviamo e riusciamo anche a in qualche modo salvare noi stessi e le nostre anime e avere anche un sguardo sul futuro di speranza nonostante che comunque le prove, ormai il tempo delle prove sia arrivato e le prove si stanno intensificando. Allora il problema che voglio affrontare in questo editoriale è quello dell'inganno di Satana. Voi sapete che l'inganno più sottile del falsario è quello di farci sapere che non c'è. Questo è il primo grande inganno che riguarda proprio una delle tante negazioni delle verità di fede del nostro tempo, cioè che Satana non esiste, che Satana è soltanto un simbolo, però diciamo la fede ci accerta che Satana è proprio il Vangelo che rivela la presenza del tentatore che Gesù chiama il principe di questo mondo, quindi ha un esercizio di potere sul mondo che cerca di contrastare quello di Dio. Ed è proprio Gesù che ci dice, ci rivela la natura di Satana che è mezzognero e omicida fin dal principio, quindi cerchiamo di mettere a fuoco le verità della fede che la Madonna ci ricorda continuamente. Vi ricordo cari amici che in tanti messaggi del tempo della pandemia in questi ultimi un anno e mezzo la Madonna a meno sei volte ha parlato di Satana, ha parlato della sua volontà di distruggere la nostra vita, il pianeta sul quale viviamo, ci ha detto che Satana sta dispiegando tutta la sua forza perché vuole la guerra, vuole la gelosia, vuole l'odio e vuole soprattutto allontanare le anime dal suo cuore con gli inganni e ci ha anche detto una situazione disastrosa di pandemia spirituale, quella famosa espressione del luglio del 2020 che Satana mieta le anime. Perciò incominciamo questo vittoriale con l'affermazione di fede che Satana c'è, che Satana è tentatore e omicida, cioè inganna, inganna, ti attira sulla sua via per portarti alla perdizione eterna, ma nel medesimo tempo c'è anche un inganno globale che Satana è riuscito a portare avanti in questo tempo in quanto ha deviato un'intera civiltà dalla fede cristiana, era indirizzata sulla via dell'ateismo, del materialismo, dell'idolatria e nel medesimo tempo è riuscito a diciamo ad attirare tanti cuori, a corromperli, per cui la Madonna è arrivata a dire appunto che Satana regna perché comunque molti personaggi diciamo che hanno importanza nel mondo hanno orecchiato, hanno dato ascolto alle sue sirene, ai suoi inganni, alle sue proposte e questo è sicuramente il pericolo più grande che stiamo correndo, cioè non è tanto la pandemia sanitaria quella che diciamo dobbiamo temere, dobbiamo temere la pandemia spirituale che si è in qualche modo imposta sul mondo in questi ultimi 40 anni in modo particolare e a causa di questa pandemia spirituale le anime si perdono, Satana diciamo così è riuscito a indirizzare il mondo dove lui vuole, cioè sulla via dell'orde della guerra e vuol portarci allo sterminio generale, questa è la prospettiva cari amici che abbiamo davanti, quindi Satana c'è, è l'ingannatore, inganna per portarci, ovviamente il suo obiettivo è impossessarsi delle anime, è l'obiettivo primo che ha, ma l'altro obiettivo è attraverso l'odio, attraverso la guerra distruggere il mondo e in questa distruzione, distruzzendo l'opera della creazione della redenzione, mietere le anime perché voi sapete che il tempo della guerra è il tempo in cui Satana miete le anime attraverso l'odio, attraverso la violenza, attraverso le impietà, questo ovviamente non abbiamo bisogno di illustrarlo perché lo sappiamo benissimo, però c'è un particolare che aggrava la situazione, cioè lo sappiamo che Satana è l'omicida e il mezzognero, questa è la sua presenza nel corso della storia, c'è un particolare che però rende più drammatica la situazione, cioè il fatto che con l'inizio del nuovo millennio la Madonna ha usato una frase dell'Apocalisse per dire che Satana sta dispiegando una potenza che prima aveva mai dispiegato quando ha detto che Satana è sciolto dalle catene, ovviamente è una frase che ha un peso molto forte e la Madonna poi ha spiegato che cosa vuol dire Satana è sciolto dalle catene e l'ha spiegato con appunto una capacità di inganno per cui è riuscito a in qualche modo portare gran parte del mondo cristiano sulla via dell'ateismo e la via del materialismo e ha uscito in qualche modo a creare diciamo così un pensiero unico mondiale che esclude Dio, esclude l'eternità, esclude l'anima immortale e quindi come diceva San Giovanni Paolo II la gente muore impenitente senza chiedere perdono dei peccati, senza preghiera, senza riferimento all'aldilà, questa è una situazione di una gravità enorme, la Madonna ce la richiama ma noi facciamo fatica a capirla, cioè le anime che si perdono si perdono eternamente, cioè ogni anima è stata salvata dalla passione di Cristo, dal sangue di Cristo, ogni anima ha un valore incommensurabile, il fatto che le anime si perdono in un numero così grande, come data parte ci sottolinea la Madonna stessa, a Fatima, a Medjugorje e dovrebbe farci tremare le vene i polsi anche perché comunque noi siamo in questo tempo, siamo in questa situazione, molti di noi, molti dei nostri cari, dei nostri figli, delle persone che ci stanno accanto sono state in qualche modo attirate dai suoi inganni e sono caduti in questa rete per cui non riescono a uscire fuori, c'è una visione della vita tutta protesa alle cose materiali, una visione della vita dove non c'è più la luce di Dio, non c'è più la luce della moralità, non c'è più la luce dell'eternità e ci guardiamo intorno e rischiamo di pensare che noi siamo fuori di testa, che nel senso che veramente come dicono loro, quelli che lo seguono, che la fede sia una malattia dell'anima di cui bisogna guarire più presto insomma, mentre l'ateismo sarebbe la condizione normale della vita e quindi la situazione attuale è aggravata da questa permissione divina perché è chiaro che Satana, come ci dicono anche delle rivelazioni private, diciamo così, a santi, a mistici e ha ottenuto da Dio il permesso di distruggere la Chiesa in quest'ultimo secolo, ma Dio gli ha detto non riuscirai, questo è anche un messaggio della regina della pace dei primi anni a Međugorje, quindi il fatto che Satana ci soltano delle catene sta a indicare che noi siamo in pericolo più grave, cioè il pericolo, qual è il pericolo? Il pericolo è quello di essere sedotti, di essere ingannati, ma guardate cari amici che Satana gioca su tanti tavoli, è molto più furbo di quanto noi non pensiamo, nessuno di noi riesce a essere più furbo di lui, ma Satana è talmente misognero che mente anche quando dice la verità, perché quando lui Satana dice, quando Gesù caccia i demoni e i demoni dicono questo è il filo di Dio, anche in quel momento mente perché sanno che l'atesismo di un demonio non è credibile, quindi è così astuto, così capace di sviare anche le menti più sottili, anche i cuori più preparati, che senza una grande umiltà e senza la grazia di Dio è impossibile cedere alle sue seduzioni. Voi pensate, cari amici, come i nostri progenitori che erano in stato di grazia, non avevano il peccato originale, erano in paradiso terrestre e sono bastate due parole perché cadessero nel suo inganno e perdessero tutto ciò che Dio aveva dato loro, la loro condizione esistenziale di immortalità, di santità, di sapienza, di diciamo così, di un paradiso sulla terra prima di entrare nel paradiso del cielo, hanno perso tutto per l'inganno di Satana che li ha, diciamo così, li ha in qualche modo portati a dubitare di Dio. Il simbolo del serpente è irresistibile, senza la vigilanza e la grande umiltà non cadiamo facilmente nella tentazione. Per capire però qual è l'inganno per eccellenza che è stato portato avanti in questi anni, in questi anni c'è stato un evento che è nuovo nei 2000 anni di storia della Chiesa, perché bisogna capire il perché la Madonna è qui da 40 anni, perché è il tempo, possiamo chiamarlo, della grande apostasia, della grande impostura anticristica. È un tempo preannunciato dai Vangeli, dagli Atti della Sacra Scrittura, dai Mistici, dai Santi, dall'apparizione di Mariane, quindi non è qualcosa di, diciamo, imprevisto. Però naturalmente il tempo doveva arrivare l'arrivato. Allora, però, per capire l'inganno per eccellenza, perché c'è un inganno che è la... C'è un inganno, c'è una tentazione che è l'inganno, è la madre di tutte le altre tentazioni. Allora, per capire questo inganno, in cui è accaduta la nostra generazione, cioè dobbiamo rifarci alla prima tentazione, quella dell'Eden, che è la tentazione per eccellenza, la tentazione che è madre di tutte le tentazioni. Allora, là c'era la coppia umana in grande elevazione di grazie, in grande amicizio con Dio, con i doni che conosciamo, della santità, dell'immortalità, dell'assenza del dolore, dell'integrità perfetta e della sapienza, insomma. I doni che scaturiscono dall'intima unione con Dio, della sua amicizia. Allora, quindi, praticamente erano in una condizione inattaccabile. In che cosa poteva tentargli il demonio? C'era una sola tentazione che era possibile al demonio, perché cosa poteva offrire il demonio di più ai nostri progenitori? Cosa poteva il demonio offrire qualcosa di più di quanto Dio non avesse già dato a loro? Quindi, eppure è riuscito a trovare, il demonio è riuscito a trovare qualcosa che Dio non aveva dato a loro. E con lui ha promesso di dare, cioè la divinità. Quindi i nostri progenitori, lì, sono stati attaccati. Cioè, Satana ha detto loro, se non obbedirete a Dio, se prenderete in mano voi la vostra vita, se diventerete voi costruttori di voi stessi, anche voi sarete come Dio. Perché quel famoso albero della conoscenza del bene e del male è, diciamo così, ovviamente un albero simbolico che indica una grande verità, cioè la capacità, diciamo così, che ha l'uomo, mettendosi davanti a Dio, di avere una duplice possibilità, quella del bene e quella del male. Cioè, la via del bene, la possibilità che ha del bene è la sua sottomissione, l'apertura del cuore e l'amore per Dio. L'altra possibilità che ha l'uomo davanti a Dio è quella di chiudersi a Dio, respingere la dipendenza, affermare se stesso al posto di Dio e il diavolo è uscito a sviarli sulla sua via, quella che aveva già percorso lui, che è quella del rifiuto di Dio. E della stupida, stupida perché poi male acceca, illusione di poter vivere senza Dio e al posto di Dio. Questa è la tentazione in cui sono caduti i progenitori, per cui si sono trovati poi nella condizione miserabile in cui tutti noi siamo nati, come figli di Eva, grazie poi abbiamo avuto la redenzione di Cristo, ovviamente, e quella è la madre di tutte le tentazioni. Ora, cari amici, in questo tempo si sta realizzando la medesima situazione, la medesima tentazione, la tentazione madre, cioè un'umanità che poi possiamo dire l'umanità redenta, perché comunque i popoli di antica cristianità sono vissuti nella fede e alla luce della redenzione, a parte minoranze, diciamo, pervertite e pagane, la storia dei duemilani, la storia della Chiesa, è stata una storia di, diciamo così, di fede comunque, anche di santi, poi ovviamente anche il diavolo ha fatto la sua parte, però, diciamo, quando si ha la fede, quando si ha la fede, diciamo, è più facile chiedere il periodo dei peccati e quindi morire riconciliati con Dio, ma quando non si ha la fede, come succede nel nostro tempo, si more nell'impenitenza. Quindi, cari amici, questi paesi di antica cristianità che poi hanno portato il Vangelo nel mondo, in questi ultimi decenni hanno portato a termine una, diciamo, una tentazione che si è affermata in Occidente da secoli, che poi però riguardava soltanto le grandi, diciamo, le persone colte, le persone, diciamo, che credevano di emanciparsi e di fare a meno di Dio, quindi persone che hanno riproposto l'antico paganesimo o comunque hanno riproposto quello che è, diciamo, adesso è un pensiero condiviso da tutti, cioè Dio non c'è, l'uomo al posto di Dio, cioè non è Dio che ha creato l'uomo, è l'uomo che si è inventato Dio, le persone mature se ne liberano, sanno che c'è solo l'uomo, che l'uomo è il padrone del mondo, che l'uomo decide ciò che è bene e ciò che è male, insomma, in questi decenni è maturata, Satana ha riproposto la tentazione dell'Eden, rifiuta Cristo, rifiuti il cristianesimo, rifiuti la salvezza cristiana e sarai tu Dio al posto di Dio e costruirai una società tutta tua, un mondo tutto tuo, anzi, rifarai l'uomo, supererai l'uomo, lo farai più bello, più sano, immortale addirittura, andrei a dirvi tutti i limiti perché nessuno potrà fermarti. Queste sono, diciamo, le grandi illusioni con cui Satana ha fatto deviare le moltitudini, ha conquistato le classi, diciamo, dominanti, le ha fatte sue e quindi per quello che la Madonna dice e Satana regna. Quindi, in questi anni, cari amici, si è realizzato esattamente quello che era successo in termini diversi all'origine della storia umana, cioè l'uomo salvato, redento, che ha avuto la grazia dalla fede, che in Cristo ha vinto la morte, che in Cristo ha ottenuto la vita eterna, che ha avuto il tuo dall'immortalità e della santità e della grazia e della libertà dei figli di Dio, insomma, questa è la salvezza cristiana, cari amici, che ovviamente è una salvezza tutta interiore dove però c'è già la remissione dei peccati, c'è già il dono della dignità dei figli di Dio per quanto adottivi, ovviamente, e c'è già la prospettiva della vita eterna per chi muore, anche se ovviamente la sofferenza e la morte non sono tolte, ma sono trasformate, la sofferenza è, diciamo, santificata dalla croce e la morte è, diciamo, illuminata dalla vita eterna, quindi questa è la salvezza cristiana che ci salva dalla nostra misura condizione umana dove c'è l'ignoranza, c'è la cattiveria, c'è il peccato, c'è il male, c'è la sofferenza, c'è la morte, la condizione umana è salvata e come la Madonna ci ha ripetuto tante volte, qui su questa terra si può già vivere bene, piacevolmente, in attesa della vita eterna, la vita sulla terra può già diventare un pezzo di paradiso e anche quindi la fatica, la sofferenza, il combattimento spirituale sono tutte realtà comunque che contribuiscono alla nostra gloria celeste. Quindi, questo è avvenuto, cari amici, e globalmente, perché possiamo dire che quelli che si sono salvati, in qualche modo, che sono rimasti saldi nella fede e in occidente sono chiaramente una minoranza, mentre non è soltanto in questione di maggioranza quella che si è allontanata da Dio e che ha preso la via dell'ateismo e del materialismo, ma è il fatto che hanno elaborato un pensiero unico che è quello poi delle classi dominanti, che è quello poi di che immano tutti i mass media, che immano, cioè, praticamente, i poteri mondani sono permeati da questo pensiero alternativo al cristianesimo che propone una visione della vita che vi ho detto dove l'uomo è padrone, dove non c'è più Dio e questa è una metamorfosi che è avvenuta rapidamente che quasi non ce ne siamo accorti, ci ha trasformati, ma poi noi lo vediamo in giro, cari amici, lo vediamo, che i cristiani sono talmente pochi che quasi non li vedi, le chiese sono svuotate, ma anche i cuori sono svuotati e le testimonianze sono ridotte a piccoli gruppi per quanto resistenti, per quanto, diciamo, ferventi, anche grazie alla presenza della Madonna c'è stata una resistenza che ha impedito all'umanità e all'Occidente in particolare di cadere in una totale oscurità, però che Satana abbia avuto un successo enorme in questi decenni nei quali ci ha deviato e ci ha messo sulla via, ci ha tolto dalla via di Dio e ci ha messo sulla via della rovina, questo è un'evidenza, un'evidenza che la Madonna ci ha segnalato in tanti modi. Allora, cari amici, questo è quanto è avvenuto e questa la possiamo chiamare la grande pandemia spirituale che si è affermata nel mondo e che è in grande espansione. Si è affermata nel mondo già dal dopoguerra, vi ho detto, la storia della pandemia spirituale, cioè del rifiuto del cristianesimo è una storia lunga, però a livello a livello diciamo di progetto mondiale si è affermata dopo la seconda guerra mondiale in pratica e si è dilagata in qualche modo a partire dal 2000, cioè da quando in pratica c'è stato questo cambiamento radicale del mondo con la caduta dell'impero sovietico e le forze diciamo che avevano contribuito a questa caduta hanno si sono quasi pervertite, cioè sono diventate anticristiane, hanno elaborato un progetto mondiale di dominio dal quale assolutamente Dio è fuori, Cristo è fuori, cristianesimo sarebbe diciamo così un elemento superato, anzi qualcosa di eliminare anche sbrigativamente perché impedirebbe le grandi le grandi sorte progressive dell'umanità, no? allora questo è sicuramente l'inganno più sottile e più efficace che Satan ha portato avanti avendo un successo planetario, cioè la sostituzione nei paesi cristiani della religione cristiana con un'altra religione che è la religione dell'uomo, questo è il primo inganno satanico, ma questa religione dell'uomo è diciamo così poi si concretizza in tanti diciamo in tanti modi per cui noi vediamo che vediamo uno stravolgimento totale della nostra visione della vita, cioè tu te ne accorgi subito che le persone che comunque hanno avuto un'educazione cristiana insomma che hanno avuto diciamo dei principi fondamentali insomma la fede in Dio nei comandamenti una prospettiva di vita che comunque è aperta all'eternità queste persone qualcosa hanno conservato ma poi le generazioni che sono venute dopo in questi decenni sono sempre più sradicate dal cristianesimo estranei al cristianesimo hanno assimilato una visione della vita materialistica cioè per loro l'uomo e il suo corpo non c'è più un'anima di cui aver cura ma tu lo vedi in questa pandemia come la salute è diventata la cosa più importante di tutte quando c'è la salute c'è tutto allora quelli che hanno la salute sono perduti cioè non sia più nessuna cura di se stessi nel senso integrale della parola cioè cura della propria spiritualità della propria moralità del proprio profilo spirituale di persone buone sapienti saggi cioè siamo come degli animali che comunque pretendono la vita fisica se potessero pretenderebbero anche di mortalità ma comunque una vita diciamo a dimensione animale a dimensione a dimensione della diciamo della visione darwinistica della vita no che sappiamo com'è purtroppo allora tu lo vedi come questa visione della vita atea materialistica panteistica si è diffusa ovunque ed è diventata il peso dominante io mi chiedo i nostri ragazzi i nostri giovani cos'imparano a scuola cos'imparano in embers media cioè c'è anche al di là diciamo della menzogna nel vedere nella menzogna come visione d'insieme cioè una vita senza Dio insomma una vita che ti dice che tu vieni dalla terra sei un elemento dell'evoluzione poi torni alla terra e finisci in nulla non c'è un'anima immortale ma al di là di tutto questo c'è qualcosa di peggio cioè non c'è moralità perché comunque se non c'è Dio non c'è neanche la sua legge da osservare sono gli uomini che stabiliscono cos'è il bene e cos'è il male questo apre la strava a tutte le perversioni che noi vediamo a tutte le forme di violenza pensiamo all'aborto a questa macelleria generale che viene giustificata col fatto che comunque l'embrione non ha un'anima spirituale mortale è un pugno di materia e basta e anche se la scienza ci dice che c'è già il progetto di tutto l'uomo se ne fanno un baffo se ne infiscano anzi ritengono poteri pubblici ritengono che anche al nuovo mese si possa abortire cioè nella misura in cui l'uomo è identificato con il suo corpo la sua vita viene accorciata se nascono quelli che tu decidi che nascono e muoiono quelli che tu decidi che muoiono in poche parole la vita è in mano cioè la vita diventa una merce diventa una cosa non è più un valore assoluto quindi vi dicevo che questo produce produce all'interno dell'uomo lo scatenamento quindi delle passioni che sono legate al corpo manca una una prospettiva spirituale una capacità morale di guidare se stessi di dominare se stessi quindi tutto è lecito per cui adesso stiamo discutendo leggi per il secondo le quali l'uomo può nascere in provetta può nascere programmato può nascere diverso da come è si può programmare il super uomo cioè è una come dire una satana ci ha grovigliato in una foresta dalla quale non riusciamo ad uscire allora questa è la situazione di gravità dalla quale ci troviamo la l'astuzia di satana è che adesso noi questa realtà alla quale la madonna ci chiama cioè ci fa meditare cioè una realtà nella quale negando dire negando l'anima noi andiamo verso la perdizione eterna cioè la madonna ha precisato fin dall'inizio che ogni uomo può conoscere il dio con la sua intelligenza con la sua coscienza e quindi nel suo intimo in grado di decidere la sua vita rispetto a Dio scendendo per il bene o scendendo per il male oppure chiedendo perdone ai propri peccati quindi la prospettiva diciamo è chiaro che poi con l'educazione che offriscono la mente che ti educa all'ateismo che ti spinge sulle vie e le immoralità è chiaro che poi tutti questi questi beni che Dio ha messo nel tuo cuore poi si estinguono insomma per cui e trovi gli uomini che sono non dico delle bestie sono peggio dei demoni è così cari amici che succede ed è così che è questo è sicuramente una realtà dalla quale ben difficilmente adesso riusciamo a far marci indietro insomma perché se non si ha la fede se non si ha la grazia se non c'è se non c'è se non c'è le orecchie che ascoltano l'appello alla conversione non si va da nessuna parte bene carissimi questa dunque è la realtà che è maturata in questi in questi diciamo decenni partito dopo guerra in poi satana è riuscito in qualche modo a impossessarsi di gran parte dell'umanità questa è la realtà poi ovviamente noi non possiamo tacere la presenza del bene la presenza della madonna in tutti questi anni come la madonna ha cercato di ha cercato di risvegliare la fede di chiamare alla preghiera di chiamare alla conversione ha formato i suoi apostoli cioè la madonna è chiaro non le sta lì a guardare però lei ci segnala in continuazione in questi ultimi mesi vorrei dire come il progetto di satana sia arrivato al compimento cioè praticamente ha impugno nel mondo anche se poi la madonna giustamente dice la sua una falsa forza perché lei è qui perché lei è qui è qui per fermarlo è qui per svelarlo è qui per sconfiggerlo è qui per distruggerlo cari amici quindi questa mi pare che sia il primo inganno che di cui la madonna ci mette ci mette in guardia cioè satana come ha fatto con i progenitori è riuscito a farvi ripudiare il cristianesimo e vi ha messo sulla sua via che è la via dell'ateismo del materialismo dell'immoralità la via dell'odio la via della guerra e qui cari amici che vorrei mostrare la diversità di percezione del pericolo che c'è fra il cielo e noi cioè noi praticamente siamo qui tutti i giorni a discutere di questa pandemia la cui origine non la sappiamo però i sospetti che venga dalla malvagità umana ci sono o comunque perché comunque perché comunque ormai è diventata diciamo un'opinione quasi condivisa se non condivisa quasi condivisa agli alti livelli ma molto condivisa a livello popolare che questa pandemia sia venuta da un laboratorio militare insomma quindi il solo fatto che questa pandemia sia venuta da un laboratorio militare è un'ipotesi ovviamente andrebbe dimostrata non sarà facile però ci dice che anche questa pandemia che ci dà che ha causato tanti guai comunque viene dalla malvagità umana alla fin fine viene è dal demonio che ci spinge a creare armi sempre peggiori sempre più distruttive sempre più pervasive sempre meno care quindi sempre più alla portata di tutti e comunque sia cari amici il primo inganno più grave del demonio è proprio questo che che ci ha fatto ha deviato la nostra attenzione su questa crisi diciamo sanitaria e anche economica che comunque sta cambiando il mondo quando invece questa stessa crisi che è appunto la pandemia con cui abbiamo che fare è provocata da una pandemia molto più profonda e cioè è provocata dal fatto che abbiamo abbandonato Dio la sua legge il suo rispetto della vita ci siamo fatti prendere dalla superbia dalla cupidicia parlo a livello di popolo a livello di nazioni a livello di potenze dalla volontà di dominare dalla volontà di cercare sempre nuove armi per poter prevalere quindi la stessa pandemia che viviamo ora e sulla quale ci concentriamo a volte discutiamo del nulla perché con tutte le discussioni che facciamo ci arrapichiamo sui vetri essa stessa può essere provocata o forse stata provocata dalla pandemia che è quella che rovina le anime e la società nel medesimo tempo che è appunto la tentazione nella quale siamo caduti di togliere Dio dalla nostra vita di togliere la salvezza cristiana dalla nostra vita di togliere la visione dell'uomo dalla nostra vita cioè la visione cristiana di un uomo che ha l'anima spirituale immortale di togliere dalla prospettiva della vita all'eternità quindi siamo in questa situazione cari amici questo è l'inganno vero profondo del demonio ci tiene irretiti in questa pandemia che è come dire visibile e che noi cerchiamo di affrontare e che non riusciamo a risolvere e ci teniamo polarizzati lì e siamo lì a discutere e i vaccini e i non vaccini e qua e là e il lockdown e il lockdown e le aperture e le chiusure e i ricoveri che poi che poi alla fine se non togliamo la radice del male andiamo da nessuna parte cioè tutto questo che è accaduto è accaduto perché l'uomo ha abbandonato Dio se è vero come penso che sia vero che questo virus sia venuto da un laboratorio militare sta a indicare che che quello che vince la Madonna nel mondo c'è la guerra perché di quali c'è l'odio alla fine ha originato la pandemia sanitaria ma noi adesso siamo polarizzati su questa pandemia e noi vediamo l'altra la più profonda quella che ci porterà alla distruzione perché anche se superassimo questa pandemia sanitaria staremo a vedere se Dio poi Dio governa lo sa lui come governare le cose al meglio perché si salvi il maggior numero di anime però non c'è dubbio che la amici sempre uscissimo fuori da questa pandemia sanitaria non è che il mondo sia più sicuro il mondo non è sicuro lontano va Dio il mondo non è sicuro perché come dice la Madonna se nei cuori c'è la superbia c'è l'odo c'è la guerra c'è la volontà di prevalere c'è la volontà di dominare andiamo diritti verso la distruzione questa è la realtà questo è il più sottile inganno del demonio cioè tenerci preoccupati di sopravvivere e non vediamo che invece stiamo organizzando già la prossima distruzione con una con una guerra che è già in atto cari amici noi siamo tutti che è già in atto una guerra che portare il mondo alla distruzione ma tu questa per quello che la Madonna ci ha detto nel suo ultimo messaggio pregate con me per la pace e per la libertà perché poi cari amici la guerra è la madre di tutte le tragedie di tutte le perversioni le guerre generano una violenza enorme trasformano gli uomini molte volte in demoni le guerre creano dittature capillari come ha detto la Madonna attraverso la guerra salta distrugge le vostre vite e prenda sul quale vivete quindi se noi e mette salta ci tiene lontano da questo cioè lui sa che se il mondo si convertisse che se gli uomini tornassero a Dio se gli uomini tornassero a pregare tornassero a legge di Dio salta ma sa che perde che perde la possibilità che ha in mano che tutto quello che ha realizzato in questi decenni va in fumo e invece caro amico dorme tranquillo perché noi neanche ci pensiamo all'aldilà all'eternità alla legge di Dio a un'anima immortale ma neanche ci pensiamo siamo tutti protesi alle cose materiali protesi al denaro protesi a star bene ma poi è uno star bene che lascia il tempo che trova io che vi ho letto ho messo giù un piccolo elenco cari amici di tentazioni che tutte emanano da questa tentazione fondamentale cioè il Satra ci ha fatto deviare nella fede cristiana ci ha indirizzati all'ateismo dicendoci che senza Dio si vive meglio questo è uno slogan che ha girato e che gira io sto bene senza Dio senza Dio si vive meglio l'altro slogan quel dei colti fra i colti metterei anche tanti studiosi cattolici o protestanti che siano comunque cristiani che sono quelli che sono iscritti al modernismo o alla setta modernista cioè che la fede è un'illusione è un'invenzione della psiche umana che la scienza è l'unica forma di conoscenza di fatti noi abbiamo sperimentato come in questi tempi la pieghiera sia stata totalmente abbandonata perché tanto ci pensa la scienza a salvarci non dimentichiamo che la scienza ha già tramito abbondantemente perché tutti quei lo stesso virus che ci sta distruggendo che ci sta mettendo in ginocchio probabilmente è un prodotto è un prodotto della scienza militare quindi tutti questi slogan menzogneri che sono diventati parte del pensiero unico cioè la fede è un'illusione la scienza è l'unica forma di conoscenza la salvezza cristiana è un'illusione Cristo era un povero uomo che è morto in croce per motivi politici non ha neppure salvato se stesso come farà a salvare noi l'altra grande menzogna del diavolo che trovi sui giornali ci sono dei virogi quando parlano ci spiegano che noi siamo degli animali capito e dicendo così si come dire inarcano le ciglia per dire come sono intelligente cioè l'uomo viene dalla terra e torna alla terra non ha anima mortale ci dicono non c'è l'eternità con la morte finisce tutto sono tutte invenzioni dei preti e addirittura si prospettano le grandi conquiste scientifiche contro il giumanesimo cioè la scienza ormai è in grado di produrre un uomo nuovo dove non c'è più la malattia non c'è più la morte non c'è più il male dentro di lui e così è la scienza che può costruire la felicità e l'immortalità l'uomo stesso autonomo può stabilire lui ciò che è bene ciò che è male quindi può dire tutti i contrari di quello che ha detto di cristalesimo finora e quindi non ha nessun limite se non quello stabilito dalle leggi umane difatti come vedete le leggi degli stati hanno legittimato la perversione in tanti modi ma dall'aborto all'eutanasia diciamo così e a tutto il resto che non sto a elencarvi in poche parole tutta la dimensione spirituale soprannaturale della vita è stata abolita l'unica prospettiva che abbiamo davanti quindi è quella di questo mondo i beni materiali diventano i fili della vita e quindi tutta questa serie di proposte del diavolo con tutta questa serie di proposte la quale abbiamo abboccato Satana si appresta a distruggere il nostro futuro la nostra vita la nostra possibilità di sopravvivere qui su questa terra vorrei adesso però con tutta la delicatezza che va usata in queste cose però la Madonna ne ha parlato quindi dobbiamo parlare anche noi e cioè questa questa menzogna è entrata anche nella chiesa sappiamo che c'è c'è stata una corrente particolare già iniziata a meno un secolo fa del modernismo al quale la Madonna ha vendicato tre tremendi messaggi cioè tutti e tre questi messaggi sul modernismo la Madonna l'ha collocati a Satana cioè Satana ha sedotto il mondo ma se voto soprattutto la chiesa con modernismo cercando di svuotarla della fede e spingendola diciamo così verso la negazione del soprannaturale verso la negazione della divinità di Cristo e quindi spingendo la visione materialistica della vita e quindi spingendo a trasformare la chiesa in una struttura diciamo umana e quindi togliendo dalla chiesa la sua dimensione divina e questo è sicuramente il danno più grave che Satana era uscito incandando molti e incamminando molti su questa strada che ha indebolito la chiesa e per fortuna che la Madonna già a partire da Ludovac in poi e ha moltiplicato le sue apparizioni ovunque nel mondo ma soprattutto in Europa proprio per creare delle fortezze di resistenza soprattutto grazie ai piccoli e alle persone semplici che hanno conservato l'integrità della fede ma noi lo vediamo cari amici come questo vento distruttore soffi soffi e entri anche diciamo così anche nelle chiese che si svuotano perché si perde la fede perché non si crede neanche più non si vede neanche più perché Cristo ha fatto la chiesa che ovviamente l'ha creata perché prolungasse la sua opera della redenzione la sua parola la sua presenza e quindi la finalità principale della chiesa che è la salvezza eterna delle anime insomma cari amici la capacità di inganno del demone è stata straordinaria ha avuto un successo planetario ma adesso come siamo ridotti cari amici siccome siamo arrivati quasi alla fine vi riassumo brevemente con alcuni con alcuni slogan lo stato nel quale ci troviamo cioè l'umanità è sul loro dell'abisso ormai ha appreso una strada che è la strada della guerra dell'odio della prepotenza della superbia dell'ateismo e su questa china ha incominciato a rotolare una velocità supersonica e non ha più la forza di fermarsi io trovo sempre più persone che che riflettendo sulla situazione del mondo d'oggi dicono se non interviene Dio non ci possiamo salvare eppure non è che siano dei seguaci di Međugorje e la situazione in cui ci troviamo è questa cioè l'incredulità la volontà di potenza l'ingordigia l'odo dilagante spinge l'umanità verso 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 la guerra che avevola pure col suo nome e cognome verso le dittature le repressioni le persecuzioni questa è la prospettiva che abbiamo davanti siamo in una situazione in cui molti muoiono impenitenti per cui la Madonna dice Satana mieti alle anime come se fosse lo spiega di grano questa è la situazione nella quale Satana ci ha portati da parte quando i nostri progenitori sono usciti dal palazzo terrestre e Dio ha toluto delle peli perché si coprissero avevamo perso tutto anche noi cari amici abbandonando Dio abbiamo perso tutto abbiamo perso il senso della vita abbiamo perso l'eternità abbiamo perso l'anima abbiamo perso la possibilità di felicità abbiamo perso la speranza siamo entrati nella dimensione della paura dell'angoscia e della disperazione insomma siamo peggio dei nostri progenitori quando sono usciti dall'apparizzo terrestre ma non posso fermarmi qui cari amici ovviamente perché come la Madonna ci ha spiegato dopo che ci ha detto tutto quello che ci ha detto cioè la Madonna in pratica ci ha detto ma Dio vi ama e ha mandato me per salvare le vostre vite e il pianeta sul quale vivete quindi questo ovviamente è un messaggio che io do a tutti quelli che mi ascoltano c'è un messaggio che è sorto sulla via della conversione sulla via della preghiera però vorrei siccome le onde della radio e dei mass media possono arrivare laddove meno te lo aspetti vorrei dire che siamo ancora nel tempo di grazia cioè Dio un padre misericordioso per quanto abbiamo sbandato nella vita ricordiamoci che ci si inginocchiamo nel silenzio dell'anima e che diamo perdono a Dio dei nostri peccati possiamo ottenere il perdono possiamo essere integrati nella comunità cristiana nella chiesa possiamo ricevere l'eucaristia dopo aver fatto la confessione possiamo riconciliarci con Dio e così già essere felici qui su questa terra come ci ha detto la Madonna in questo tempo tremendo pieno di pericoli di inganni col mondo a rischio di autodistruzione tutti quelli che sono lontani sono ancora in tempo sono ancora in tempo a trovare Dio a cercare Dio a trovare Dio a unirsi a Dio e così entrare nel tempo della grande prova diciamo protetti sotto il matto della Madonna e pronti ad affrontare qualsiasi cosa qualsiasi prova qualsiasi difficoltà qualsiasi pericolo perché è perché cari amici si ha dentro la luce di Dio la forza di Dio questo è quello che la Madonna ci dice in continuazione cioè praticamente il messaggio che la Madonna ci ha dato in questi ultimi due anni particolare è molto semplice cioè il demonio attraverso l'ateismo il materialismo la superbia l'immoralità l'egoismo l'odio sta dacidando l'umanità verso la distruzione di se stessa e del mondo questa è una china dalla quale non si riesce a fermarsi ma come ha detto la Madonna a Rubac quando tutto sembrerà perduto io ci sarò ma c'è già ora è già ora presente è il tempo della conversione è il tempo è il tempo in cui possiamo ancora recuperare tutto quello che abbiamo perduto attraverso il pentimento dei peccati attraverso la fede l'umiltà della fede ed abbandona Dio cari amici ho cercato di commentare come ho potuto quello che la Madonna ha detto nel suo ultimo messaggio del 25 giugno 2021 Satana è forte ha detto e con i suoi inganni vuole portare via quanti più cuori possibili dal mio cuore immacolato cari amici è quello che sta avvenendo ma spero che riusciamo a far sorridere la Madonna con i cuori che ritornano a lei che ritornano a lei che ritornano a lei